Se avete 5 minuti qui in classe per ripensarla e scegliere dove la andiamo a girare, ricordarvi quello che avete deciso, per voi che non avete un'idea chiara, trovarla precisamente e poi scendiamo a girarla. In una sola scena abbiamo preparato un piccolissimo premontaggio. Il problema non è la caduta ma l'atterraggio. Vi salutate tra di voi per favore. Ciao! Io! No! 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 Pronti? Azione!